Il campo progressista vuole essere un soggetto politico, culturale che si mette al servizio della collettività, della comunità per creare insieme, insieme a tanti altri, un nuovo centro sinistra. Non vogliamo fare un palpitino, non vogliamo fare la stampella di nessuno, quindi non stampella di Renzi, non stampella di nessuno. Il PD non è di Renzi, il PD è degli elettori, dei militanti del Partito Democratico. Come si fa a fare una sinistra unita con il PD di Renzi che è evidente che Renzi dice il PD sono io? Ci ascoltammo e ci riunimmo, vediamo un po'. Il progetto di Pisapia era partito per appoggiare Renzi, per essere la sinistra. Questa è una domanda che aveva fatto a Pisapia, infatti in quel momento ci furono anche giudizi da parte mia critici. Credo che possa essere un passo importante per provare a ricostruire il centro sinistra, che è un'ambizione molto alta. Se Matteo Renzi vince le primarie del PD, il centro sinistra con chi lo fate? Ieri ho sentito che qualcuno diceva no alla sinistra della paura, secondo me in questi anni qualcuno ha avuto paura della sinistra, quindi va ricostruito. Senza il PD? La sinistra va rigenerata. Io credo che con il PD di Renzi sia importante avere un rapporto competitivo. Non si può ricostruire il centro sinistra con il suo killer. Però Matteo Renzi vincerà le primarie e voi come fate a fare un centro sinistra unito senza il Partito Democratico? Se Matteo Renzi vince le primarie, il Partito Democratico diventa il partito di Matteo Renzi. Questo campo progressista lo vuole arare con Renzi o senza Renzi? Bisogna vedere qua la legge elettorale e poi dopo si faranno le alleanze. Renzi è avanti nei sondaggi del PD per le primarie, quindi se vincerà lui il congresso, come è molto probabile, da voi porte chiuse e ribadita? Per noi Renzi e il Partito Democratico che ha fatto le politiche questi anni è un avversario politico, su questo non c'è dubbio, lo abbiamo detto. Loro dicono di no, il PD non sarà mai un avversario. C'è quel che pensa. Il tempo però vi dà dei rancorosi, da talk show, della sinistra, della paura e dei reduci. Questa volta rispondiamo noi con un sorriso, visto che vanno così tanto di moda. Non rispondo alle parole diventate e fuori dalla realtà gli altri, rispondo con i fatti e questo oggi è un fatto. I reduci in altri paesi sono onoratissimi, anche qui insomma non c'è proprio una frase azzeccata. Ma lei si sente un reduci, come dice Renzi? Io sono un ritornato a casa. Grazie a tutti.